Artini. Altri? Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 311, maggioranza 156, favorevole 208, con 303. La Camera approva. Secondo le intese intercorsi tra i gruppi, il seguito dell'esame del provvedimento in materia di riforma del sistema dei confidi è rinviato la prossima settimana. Per fine seduta, onorevole Colonnese. Con preghiera ai colleghi intorno all'onorevole Colonnese e anche agli altri, se riescono ad uscire in silenzio. Grazie, Presidente. Con comunicazione scritta viene stabilita la sospensione da ieri, 29-6-2016, dei ricoveri presso la TIN e la neonatologia del presidio ospedaliero l'Annunziata. Attraverso la nostra ispizione fatta dai nostri consiglieri regionali abbiamo verificato che ci sono dei reparti nuovi e in più questa sospensione dei ricoveri porterà anche un affaticamento del Santo Bono, unico presidio pediatrico del sud Italia. Noi chiediamo non solo una risposta alla nostra interrogazione 5-0-9-0-2-2 che riguarda proprio l'Annunziata, ma chiediamo attraverso lei un gesto di responsabilità da parte del Governo nei confronti dell'assoluta inefficacia e soprattutto pochezza del commissario... Grazie.